Giorno Orchideria di Brusolo, nuovo video sulle orchidee. Allora stavolta volevo parlarvi quanto tempo dopo rifiorisce l'orchidea? Cioè dopo la fioritura dopo quanto tempo rifiorisce? Bella domanda qui dipende molto dalle orchidee ci sono alcune orchidee come le palenopsie che sono rifiorenti fioriscono anche più volte l'anno ci sono delle orchidee che hanno una fioritura all'anno per esempio le catree le catree si e le grandi catree questa è una almavigma che sta fiorendo adesso queste qua dietro sono delle bifogliate questa è la potinara burona beauty grigelius questa qui e questo è un mio vecchio ibrido è la di Pozzi la gioconda la catree di Pozzi la gioconda e dipende molto dalle orchidee queste crescono una volta all'anno ci sono altre che sono praticamente a fioritura continua tutto l'anno per esempio gli psicopcis vedete questo è la psicopcis alba dietro il fiore c'è il bocciolino cade un fiore fa l'altro poi l'altro poi l'altro poi l'altro così in natura fiorisce tutto l'anno questo è la psicopcis normale questo adesso è un libro del mariposa però non c'è di un po peggio è fatto così e hanno questa caratteristica di essere più rifiorenti praticamente in natura in continuazione da noi fioriscono grosso modo da maggio a novembre perché poi con poca luce si ferma e non fiorisce più le palenopsie invece sono tra quelle rifiorenti sono tante orchidee che finiscono più volte l'anno sapete tutti che le palenopsie sono una fioritura molto lunga che dura almeno tre mesi finita la fioritura praticamente caduto l'ultimo fiore tutto l'anno fuorché in autunno nel giro di 100 giorni si apre il circa 100 giorni si apre il primo fiore della nuova fioritura ci vuol circa 100 giorni cioè circa 30 giorni per avere l'induzione a fiore circa 70 giorni perché si sviluppi la nuova c'è arriva la l'induzione a fiore appare la giamba da che porterà il ramo piccherà ma si sviluppi e finisce il primo fiore grosso modo i 100 giorni tutto l'anno perché in autunno perché d'estate con le giornate molto molto lunghe molto caldo non si ha l'induzione a fiore poi ci sono altre orchidee che sono rifiorenti parecchie per esempio tutti i moderni ibridi di cambria questo qui per esempio è la painter del ictria un buonissimo profumo sherry baby che profumatissimo questo qui che la panther white clip che in natura c'è gli ibridi i genitori di questi qui per esempio sherry baby deriva dall'occidio moritorinco che finisce in autunno però questi sono ibridi complessi che praticamente fioriscono in qualsiasi periodo dell'anno alla maturazione della nuova vegetazione la maggior parte di queste cambie che sono disponibili oggi fioriscono in qualsiasi periodo dell'anno appunto come man mano che matura il nuovo bulbo il nuovo bulbo porta il nuovo fiore per esempio gli uccidio questi qui derivano dall'occidio varicosum generalmente il no generalmente l'uncidio varicoso fiorisce in autunno però questi ibridi qua sono anche rifiorenti per cui li trovate in giro qualsiasi periodo dell'anno perché appunto queste continui ibridazioni l'ha portato a fiorire solamente in autunno questa è un'altra orchidea spettacolare questo è il bulbo filo bilbo shank che finisce solo in autunno ma vedete c'è il fiore e il bocciolo e cade uno falato pelato 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 così e fiorisce per tantissimo tempo ma sempre in autunno questo è un altro bulbo film invece a fioritura autunnale questo qui è l'orchidea margherita è il bulbo film macoiano che si chiama appunto orchidea margherita perché a grosso modo il fiore assomiglia a una margherita con un po di fantasia e così tante altre per cui quando rifiorisce l'orchidea prima di tutto dipende dall'orchidea e poi dipende anche per esempio le fiore del palenopsis in autunno in casa non avrete fiori le piante che trovate in giro in autunno perché sono coltivate in serie industriali che vengono climatizzate per abbassare un pochettino la temperatura e vengono ombreggiate o oscurate per accorciare il giorno in modo da avere induzione a fiore anche durante l'estate e di conseguenza la fioritura in autunno comunque in casa state tranquilli che se siete bravi avrete un sacco di fiori le orchidee vederanno tante soddisfazioni che sono io dico sempre sono una medicina per l'anima ma sono anche a questo adesso è l'unico che c'era fiorito è il bulbo proprio pedium pinocchio sta fiorendo adesso sta cominciando è l'unico col bocciolo pronto da fiorire questo qui praticamente a fioritura continua tutto l'anno perché ogni nuovo ramo fa anche più di dieci fiori uno dietro l'altro dato che i fiori durano anche parecchio la fioritura praticamente ora che finisce un ramo comincia nato è praticamente infinita diversi proprio pedi non fanno questo lavoro qua tutti quelli che arrivano da primulino un gloco filo così fanno questo questo sistema di fioritura ok spero di essere che vi sia piaciuto a mi raccomando il libro orchidea una medicina per l'anima 369 pagine erano 26 45 lo trovate o l'orchideria o le mostre qui partecipiamo oppure su amazon.it perché è fatto con amazon non si trova nella libreria si trova solo o l'orchideria o su amazon.it ok grazie alla prossima condividete pubblicizzate tutto il resto alla prossima ciao 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 ciao